Sì, in questo come architetti condividete il destino di tutto il resto dell'umanità. Io capisco che questo possa infastidirvi perché voi avete giustamente l'idea che quello che fate non è solo tecnica, perché vi sentite in sintonia con l'epoca, perché un architetto è un costruttore quindi ha un rango speciale nell'epoca della costruibilità, il che è assolutamente vero, ma questo rango speciale lo si paga proprio con l'appartenenza all'epoca. La quale epoca è duplice, ambivalente, cioè tutta la filosofia non ha fatto altro che tirar fuori questa idea che siamo in grado di vivere secondo ragione e al tempo stesso non siamo in grado di vivere secondo ragione. Ovvero abbiamo perduto, perché la storia ce l'ha fatto perdere, abbiamo perduto l'idea di Dio, cioè di un punto incontrovertibile che spiegava le cose di questo mondo, non perché le facesse funzionare tutte bene, ma perché ci consentiva di dire che quando qualche cosa non funzionava era peccato, cioè era una deviazione rispetto a una norma che tutti conosciamo. Se poi non la rispettiamo, colpa nostra, andremo all'inferno. Quando il sistema delle norme è impazzito, cioè quando Dio è stato nominato in più modi, cioè quando c'è stata la riforma sostanzialmente con un secolo e mezzo di guerre civili di religione in Europa, da una parte abbiamo detto, abbiamo detto, primo, dobbiamo guardare la nostra storia come un deserto, cioè nella nostra storia non ci sono elementi di ordine per il nostro presente, dobbiamo ricominciare. Secondo, nel nostro presente non c'è alcun elemento di ordine tranne noi stessi, e noi che cosa siamo? Siamo ragione e interesse. Dunque siamo cartesio e l'interesse primario alla vita e poi a godere dei frutti dell'industria, ops. Quindi siamo costretti e possiamo, per fortuna, siamo costretti e possiamo a considerare questo mondo come un deserto su cui si può costruire qualche cosa di razionale. Bene, ma se noi ci mettiamo nel deserto, ecco, se noi ci mettiamo nel deserto, noi ci mettiamo in un contesto in cui si può costruire in forma razionale, certo, ma un contesto da cui ci possiamo, ci dobbiamo aspettare di tutto. Perché dire deserto vuol dire mancanza di ordine, non vuol dire mancanza di contingenza, vuol dire pienezza di contingenza. Per cui quando io vi dico vuoto, vi dico al tempo stesso pieno, vuoto di essere, cioè vuoto di sostanza normativa o di norma sostanziale, ma pieno di contingenze. E noi diciamo, beh, noi tutte queste contingenze le possiamo domare, come? Con la scienza, con la ragione. Con l'alienazione, cioè dicendo la parte razionale dell'uomo si deve assoggettare alla norma, cioè alla politica, poi la parte non razionale, cioè la parte autointeressata, la parte non razionale universale, cioè la parte assoggettata alla politica, è una cosa, la parte razionale autointeressata, cioè la parte dell'utile, è un'altra. Sono strategie di sopravvivenza nel deserto, che è deserto per nulla rassicurante, perché la sua caratteristica è che può capitare di tutto. E la nostra idea di modernità non può essere solo l'idea dimezzata l'epoca della ragione, l'epoca del progresso, ma bisogna dire l'epoca in cui, in assenza del fondamento, ci siamo inventati, siamo stati costretti a inventarci, che siamo tenuti, e possiamo farlo, a vivere secondo ragione artificiale, a costruirci il nostro mondo e a costruirlo sempre meglio. Incontrando però continuamente ostacoli, che però sono ostacoli contingenti. Cioè, badate, quando diciamo questo, diciamo che noi non accettiamo il mondo e al tempo stesso lo accettiamo. Non lo accettiamo perché diciamo, va, non c'è niente che non possiamo fare, non c'è contingenza che non possiamo donare. Per quello che ne so io, il mondo è uno spazio omogeneo, liscio e piatto su cui posso costruire quello che mi pare. E dunque non accetto che il mondo si ponga davanti a me come qualcosa di intoccabile. Beh, perfetto. Al tempo stesso, però, se voglio vivere, non voglio ridurmi a far l'eremita, devo riconoscere che la nostra esperienza è un'esperienza di continua aggressione del mondo contro di noi. Continua. E un continuo aprirsi falle che noi ci affrettiamo a tentare di otturare e intanto se ne aprono delle altre. Oppure quella lì è sempre aperta e non riusciamo a chiuderla. E quindi, a malincuore, lo accettiamo poi questo mondo. A malincuore, riconosciamo che, sì, tutti gli uomini sono uguali, però se vogliamo mettere un po' d'ordine in questo mondo, dobbiamo cominciare col dire che gli uomini sono diversi. Ci sono quelli che comandano, quelli che obbediscono, quelli che sono sviluppati e quelli che non lo sono. Ora, quelli che non lo sono, non lo sono per colpa loro, forse perché hanno una natura inferiore, oppure perché sono stati sfortunati in un caso o nell'altro, abbiamo il dovere di essere noi a comandare su di loro. Dentro la società ci sono tante persone che vivono in modo inetto, indecente, non vogliono lavorare, si sottrangono ai doveri, si sottraggono alla pubblica opinione, dovremmo in qualche modo, dobbiamo riconoscere questa molteplicità degli accidenti e al tempo stesso dobbiamo normarla. Cioè tutta la filosofia e tutta la pratica dell'età moderna è come le Costituzioni. Si comincia dicendo che il cittadino ha il tale diritto, bene, cioè esiste un assoluto, e poi si prosegue dicendo che può utilizzare sulla base della legge. Si va a vedere, la legge a volte di quel diritto ti lascia parecchio poco, se lei vuole adoperare una parola che tiene insieme la costruibilità e il disordine, e la contingenza a questa parola è disordine. L'epoca moderna è l'epoca del disordine, che vuol dire che abbiamo in testa un'idea di ordine, che non possiamo più dire che il disordine è una peccaminosa deviazione dall'ordine dato, ma che abbiamo in testa un'idea di ordine vuota, cioè ci deve essere un ordine a questo mondo, perché il mondo non lo puoi prendere così com'è. E questo significa tanto che il mondo è infinitamente costruibile quanto che il mondo infinitamente si sottrae al nostro potere. E questo è, direte, ma non è un granché. E' certo che non è un granché, tutte queste costruzioni intellettuali si fondano su materiale che nasce dai critici della modernità. I primi a pensare in questo modo sono stati i contro-rivoluzionali cattolici. Aggiungi per altra via Nietzsche, mettici dentro Heidegger, cioè tutta la filosofia che non crede al discorso della modernità su se stessa, cioè non crede alle magnifiche sortie progressive da una parte, e dall'altra non entra nel meccanismo del pensiero dialettico, cioè di quel pensiero che dice è appunto attraverso il disordine che si genera l'ordine, ovvero l'unico ordine che puoi concepire come moderno è un ordine che trae il proprio alimento dal disordine. Per sempre, quasi per sempre, Hegel, oppure una volta per tutte, Marx. Ma questi tentativi estremi e grandiosi di tenere insieme l'ordine e il disordine, cioè di dire non banalmente ce la faremo, ma il progetto moderno, l'uomo deve vivere secondo ragione, non può abitare una società, non può abitare una politica, come si abita in una giungla. Non si può. Non è all'altezza dell'uomo. Questa idea va accettata, ma va, secondo il pensiero dialettico, ricostruita con la seguente affermazione. Vi sono delle ragioni molto precise per le quali la tendenza è verso la giungla e tanto più si costruisce la città, quanto più cresce la giungla, quanto più si dispiega la potenza costruttiva della ragione. Tanto più la ragione si mostra irrazionale. Vi sono delle buone ragioni per capire questo processo e queste buone ragioni ti consentono di capirlo, Hegel, queste buone ragioni ti consentono di rovesciarlo e di far sì che finalmente si esca dalla preistoria e senti nella storia, finalmente l'uomo abiti la città dell'uomo. Che è precisamente quello che ci è stato detto e che si è dimostrato finora non vero e che l'ultima ondata, ormai cinquantennale, di neoliberismo ha deriso dicendo che la ragione consiste per l'appunto nel fatto che ciascuno ha ragione e che la pretesa di ciascuno ha ragione la si decide attraverso il conflitto, chiamato concorrenza. I materiali con cui lavoro io sono materiali esterni all'autogiustificazione del moderno. Cioè l'autogiustificazione del moderno è l'oggetto che io studio, non è lo strumento del quale mi serve. Altrimenti non vedo come potrei fare critiche. ma certamente se voi mi chiedete siamo costretti a campare in una dimensione contingente vi dico certo che sì voi come tutti gli altri perché l'uscita dalla dimensione contingente cioè il pensiero strategico si è dimostrato vano si è dimostrato fallimentare come si è nella forma in cui si è presentato nella forma storica in cui si è presentato. Prima di tutto capisco l'esigenza di non darsi al pessimismo è una cosa a cui io non mi sono mai dato ad esempio perché io non ci trovo nulla di pessimistico nel realismo critico finché siamo capaci di fare critica non c'è motivo di essere pessimisti perché al tempo stesso noi diciamo le coazioni dell'epoca e diciamo che dentro l'epoca si danno coazioni di ordine diverso ma diciamo anche che sono coazioni epocali cioè non sono ontologiche cioè sono detto in un altro modo sono storiche quello che lei dice ha senso sicuramente ovviamente però apre apre alla questione della critica dell'economia politica perché a un certo punto lei ha detto qualcuno ci mette dei soldi e allora io voglio capire voglio capire chi e perché cioè in ogni caso è un bel momento di contingenza questo che diciamo così che qualcuno ci metta dei soldi dopodiché è chiaro che quello che lei dice è la via cioè criteri di razionalità locali si tratta di vedere se questi criteri sono applicabili in modo contingente e questo è ovvio ma se sono anche residuali cioè sempre più ristretti cioè se la disponibilità alla azione permane o se le coazioni divengono sempre più pervasive io questo nel suo ambito non lo so certo sembra che il mondo dell'architettura sia condannato a replicare con piccole varianti il modello New York in tutto il mondo basta che ci siano abbastanza soldi si fanno degli skylines di stile new yorkese poi ciascuno con il suo tocco esotico ma questo non lo voglio non lo voglio dire ma perché non sono particolarmente ferrato in questa in questa materia ma certamente l'idea che l'epoca della ragione non riesce a farci vivere secondo ragione è l'idea portante di ogni critica altrimenti critica non ci sarebbe un modo un modo trionfale per uscire da questi problemi era quando si creavano le città ideali quando qualche principe investiva tempo denaro in cambio della gloria e dava a qualche architetto il compito di disegnare e di costruire una bellissima città dal nulla pochi casi come lei mi insegna e molto ingenui ai nostri occhi ma che ci dicono ci dicono con purezza che cosa è moderno e dove va a finire poi la modernità va a finire se va bene in piccole isole felici che oggi non si vengono più non vengono più presentate come come la palmanova o sabioneta ma vengono presentate come i quartieri ben costruiti a misura d'uomo ben integrati ben serviti certo magari ce ne fossero magari ce ne fossero ho qualche perplessità sul fatto che la regola viene dopo perché lei cita Bologna Bologna non è particolare non è questo successo incredibile perché Bologna ha alcune caratteristiche tutte sue un grande centro storico che come tutti i centri storici ci pare bello anche se ha problemi di degrado qua e là una periferia sicuramente con molti ambiti periferici ordinati e civili sicuramente sì con qualche eccezione monstre il famoso pilastro ma ciò che in qualche modo ha costituito la salvezza di Bologna è stata una decisione politica politico amministrativa ma insomma una grande decisione che non so se oggi se oggi sarebbe la si potrebbe prendere cioè la decisione del sindaco Fanti di salvare la collina di rendere non edificabile la collina se voi non vedete a Bologna il santuario di San Luca immerso in mezzo ai grattacieli come se fossimo il vomero lo dovete a una ferma precisa decisione politica quella stessa che ha generato il pilastro o comunque parente di quella che ha generato il pilastro per cui c'è il bene e il male come sempre quello che capisco è che questa domanda converge con quella precedente nel tentativo di uscire da impasse e da contraddizioni che vi ho presentato che peraltro voi riconoscete come facenti parte della storia nel mainstream dell'architettura e questo in un certo senso mi rincuora nel perché mi fa mi fa capire che non me lo sono inventato il tipo di questione che vi ho posto cioè che ci si può arrivare a questa questione anche tra altri percorsi e altre discipline molto bene poi la via d'uscita e la via d'uscita è chiaramente impossibile di per sé certamente ci sono strategie di entro certi limiti di spiazzamento o comunque sia di sottrazione entro certi limiti ancora rispetto a logiche che mi pagliano estremamente pervasive e che logiche particolarmente cogenti che secondo il mio parere il postmoderno non supera per niente ma si limita a enfatizzarle e a scherzarci sopra mentre l'architettura che lo ha preceduto diciamo così si ergeva ancora con spirito titanico vede io ho tanto amore per la modernità in realtà che il cimitero di Modena che peraltro come lei forse sa adesso è praticamente in disarmo e sconnesso ma insomma prendiamolo per come è stato pensato realizzato a parte che gli hanno costruito sullo sfondo delle ulteriori cellette mortuarie così che è quasi illegibile ma insomma lasciamo stare il cimitero di Modena di Aldo Rossi il cubo di Aldo Rossi io lo vivo come un gesto di grande speranza razionalistica moderna in questo senso che è come dire avete presente il Duomo di Modena bene il Duomo di Modena è l'inizio del razionalismo è un esempio di architettura che cerca di essere il più essenziale possibile naturalmente lo dovremmo vedere e pensare prima della sua trasformazione gotica cerca di essere più semplice razionale e lineare possibile soluzioni come quella del finto matroneo sono soluzioni di semplificazione dello spazio geniale che cosa che idea ci trasmette l'idea che lo spazio è a nostra disposizione è razionalizzabile certo perché c'è Dio certo bene il cubo di Aldo Rossi a me è sempre dato l'idea analoga cioè qualcuno che dice esiste la possibilità di impadronirci razionalmente dello spazio anche senza fare riferimento alla trascendenza ma mi sembra che sia un gioco di assonanze fra quel cubo e il nostro duomo e che purtroppo si debba dire che questa assonanza vive all'interno di una forte dissonanza cioè mentre il duomo è oggetto di un processo di degrado più lento il cubo è stato oggetto di un processo di degrado assolutamente veloce ma io capisco capisco che chi deve agire deve pensare che è possibile non sottrarsi ma in qualche modo essere più astuti delle logiche della modernità certo della loro dialettica e della loro intrinseca contraddittorietà essere più astuti però prima di tutto credo che sia indispensabile conoscerle ecco averne la precisa consapevolezza la precisa consapevolezza che non dico di poter fornire ma che ho in qualche modo accennato mentre ripeto qualche cosa di un pochino più concreto lo si ottiene se si comincia a ragionare in termini di critica dell'economia politica ma voi mi avete intercettato fra i tanti filosofi italiani sulla teologia politica e quindi dovete accettare la dimensione tragica che dentro la teologia politica c'è perché la teologia politica è quello è quello poi la si può interpretare diversamente ma quella radice c'è la teologia politica oggi si manifesta come impossibilità questo non vuol dire che non ci sia cioè che non sia una coazione è bene una coazione vuol dire certe cose le puoi pensare ma non le puoi fare se vuoi sottrarti anche al pensiero pensare diversamente avrai qualche problema perché non è facile pensare diversamente poi voi che siete impegnati nel concreto mi rispondete beh però ci dobbiamo provare e io dico certo che sì che è esattamente quello che dico io tutte le volte che mi chiedono ma tu perché ti dai tanto da fare mi do tanto da fare soprattutto quando ero in servizio e facevi professore perché credo fermamente che non ci sia che il sistema universale della coazione moderna che è presente non mi tolga non mi impedisca la capacità di dedicarmi alla ricerca e alla didattica e di spiegare di far critica portare alla luce il mio agire è quello il vostro è un pochino più pratico ma certamente tutti siamo impegnati a conoscere la impossibilità del nostro agire e al tempo stesso ad agire ugualmente ma senza l'elemento conoscitivo siamo patetici se invece l'elemento conoscitivo è presente in modo troppo dogmatico siamo ridicoli e nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile a Grazie a tutti.